Intervenire subito sul mercato fondamentale delle mascherine di qualunque tipo per consentire a tutti di poterne disporre soprattutto in vista della fase 2 dell'emergenza nella quale si potrebbe dover convivere con il coronavirus covid-19 per mesi adottando precise precauzioni a chiederlo con una lettera inviata alle autorità le istituzioni Federpharma, la federazione dei titolari delle farmacie che si rifiutano di partecipare anche solo passivamente alla filiera speculativa. Un mercato, dicono, quello delle mascherine è sinora sconosciuto alle farmacie che ha subito nell'attuale situazione una deriva speculativa di cui sono vittime le stesse farmacie italiane costrette a subire esose condizioni di acquisto applicate da aziende produttrici o società di intermediazione. Per questo motivo Federpharma ha chiesto provvedimenti adeguati soprattutto in vista di un ulteriore aumento della domanda rilanciando una serie di proposte per contenere le speculazioni avviando ad esempio acquisti centralizzati da prezzo controllato. Anche la Federpharma nazionale stamattina ha pubblicato un comunicato stampa nel quale parlava di alcune criticità che si sono verificate su tutto quanto il territorio e di quei siti posti alle autorità Federpharma nazionale è ancora in attesa di risposte tipo avere dei prezzi calmerati da parte di chi vende queste mascherine che il problema sostanziale è che le farmacie acquistano a già prezzi molto alti rispetto a qualche mese fa, come ha detto anche il Presidente di Federpharma Campania. Quella di avere degli acquisti centralizzati sarebbe una buona opportunità per avere quindi un prezzo calmerato sul territorio e magari avendo degli acquisti centralizzati si possono avere dei prezzi più bassi, però queste sono tutte quante ipotesi al vaglio di Federpharma Campania, sono state delle proposte fatte anche dalla Federazione nazionale, quindi siamo in attesa di ricevere comunque delle indicazioni e anche delle risposte. A parte i prezzi è comunque ancora difficile trovare mascherine? Io presumo che si riescono a trovare, il problema è che chi acquista mascherine, quindi le farmacie ma come anche altre, perché comunque le mascherine sono considerate un parafarmaco, quindi può essere venduta anche da altre attività, il problema è che si riescono a trovare sul mercato ma a prezzi molto più alti come ho detto prima rispetto a un paio di mesi fa, quindi il problema sostanziale è questo. Presidente poi c'è l'altra questione relativa alle confezioni grandi di mascherine a livello nazionale, si è chiesto di poterle sconfezionare per venderle singolarmente, in Campania c'è un provvedimento del genere, non sempre viene tenuto conto da parte delle forze dell'ordine. Sì, la regione Campania a marzo, il 23 marzo, ha autorizzato il settore operativo del farmaco a sconfezionare le confezioni di mascherine per maggiore accesso agli utenti, l'ha autorizzato, spero che venga sempre presa in considerazione da tutti questa autorizzazione e questa deroga da parte della regione che ha dato questa facoltà alle farmacie.